Ciao a tutti ragazzi, allora se state guardando questo video devo farvi complimenti due volte. La prima volta perché ci vuole davvero tanta passione per mettersi lì a sentire robe che parlano del gran premio di Formula 1 di oggi. Uno. Due, vuol dire che siete veramente affezionati a questo canale, a questo format, a Racing Time, perché io sono veramente dell'umore del colore di questa maglietta. Ce l'ho proprio un umore nerissimo perché per l'ennesima volta un'altra gara buttata alle ortiche mi sta sembrando quasi una barzelletta perché sei lì, competitivo, in prima posizione. O la butti perché si rompe qualcosa, o la butti perché sta andando tutto liscio, allora in qualche modo dobbiamo sfasciare il gioco e lo facciamo con le strategie. Però, porca miseria, 75 probabili punti buttati alle ortiche in questo modo. Cioè è veramente un mondiale non sfigato, sfigato no. Perché quando ci sono questi errori, quando ci sono tutte queste rotture, cioè praticamente quattro vetture fuori, quattro vetture fuori sono tantissime, tutte e quattro motorizzate Ferrari, significa che i problemi ci sono e sono grossi. Il motore va bene, va però a rischio, metti l'affidabilità di tutti i motorizzati Ferrari. No, si deve rivedere qualcosa a livello strutturale, ma non del motore. Cavolo, o si rompe il motore o si sbaglia la strategia. C'è qualcosa alla base di questo team che va rivista, veramente. Perché il pilota numero uno è quello che ci illude, è quello che lì ci fa sperare, e a volte ha ragione, no? Di che la gara sia facile, che la gara si possa vincere. Pensate alle ultime tre, Barcellona, Monaco è questa. Anche oggi lui avrebbe avuto delle chance grandissime di vittorie, soprattutto perché una volta tanto la chiamata, ragazzi, è stata giusta. Bisognava rientrare in quel momento. E lui lo ha fatto, era l'unica chance che aveva. E guardando come poi si è sviluppata la gara con un'altra virtual, tutti sarebbero rientrati, Leclerc avrebbe avuto gomme fresche, e da lì avrebbe potuto seriamente vincere una gara che sulla carta era una gara pro Red Bull. Le prestazioni ci sono, il pilota numero uno c'è, perché voi ditemi Sainz gestione di gomme quanto vuoi, però era praticamente scomparso nella prima fase di gara. C'erano tre blocchi, c'era il primo blocco che erano le due Red Bull e Leclerc, il secondo blocco che era Sainz, e poi dietro tutto il resto del gruppo. Quindi è come se tu stavi vedendo tre categorie che correvano insieme in pista. Però quando tu rompi quattro motori, ok, d'accordo, due hanno avuto problemi idraulici, ma sempre affidabilità, c'è qualcosa che davvero non va. C'è qualcosa che davvero non va. E soprattutto due vetture ferme dello stesso team, significa che è molto molto probabile che noi, io per primo, devo un attimino resettare quello che è l'obiettivo di questa stagione. Non puoi dire si punta al mondiale nonostante si abbiano due cose. La vettura competitiva, perché questa macchina è competitiva, nonostante in una prima fase, con le gialle, la vettura non fosse bilanciatissima, perché il bilanciamento Red Bull era migliore, alla fine Leclerc era lì che teneva testa ad entrambi i piloti Red Bull. Quindi il pilota c'è, c'è poco da fare, la vettura c'è, poi a volte manca l'affidabilità, a volte manca il muretto dei box. Quindi su quattro componenti due ci sono, ma due mancano. Quindi per quel che riguarda il sottoscritto meglio, come dire, ipotizzare delle vittorie di tappua, dei podi, però a questo punto io personalmente al mondiale faccio fatica a crederci. Faccio veramente tanta fatica a crederci, perché al di là della fiammata iniziale che è stata veramente tosta, veramente grossa, adesso vedo un andamento molto molto arrancante. E, come temevo ieri, la poll del sabato è solo un abbaglio, perché poi si deve concretizzare la domenica. Ed è troppo tempo che ormai non si concretizza più, anche perché i team in lotta sono solamente due. Quindi, se non mince uno, c'è l'altro che va alla vittoria. Non si può sperare in un terzo incomodo, in un quarto incomodo. Quindi sono tutti punti buttati. Voltiamo un attimino pagina, guardiamo un po' la gara degli altri. Scusatemi, perché in questo video ci sono stati cinque minuti di sfogo personale che penso molti di voi condivideranno. Allora, Red Bull, ci siamo voluti illudere che Perez potesse, come dire, essere messo lì alla pari a giocarsi la posizione. Ma quando tu vedi un pilota che ha un decadimento di gomme importante, non viene richiamato ai box al momento che ha il decadimento delle gomme, è anche a rischio di fargli perdere la posizione con Leclerc. Perché in quel momento lì del sorpasso, il giro dopo, c'era il ferrarista che rimontava alla grandissima. E' lui che girava 3-4 secondi più lento. Allora, che senso ha richiamarlo un giro dopo? Richiamalo in quel giro in cui lui ha assorbito il sorpasso dal compagno di squadra. Poi cosa succede? Gli fanno fare un giro out in più un giro fuori. Lo richiamano, gli fanno un pit lentissimo e poi il giro dopo chiamano Verstappen, gli fanno un pit molto veloce rispetto al compagno di squadra. Via! Esce comodamente davanti e la gara è finita lì. Probabilmente Perez a livello di bilanciamento della vettura forse non ne aveva. Però quando tu gli dici a un pilota di non resistere a quell'altro che arriva, di non lottare e poi ancora nel sorpasso in fondo al dritto, questo non fa la minima chiusura. E' un messaggio chiaro. Già gli schemi sono ben chiari ad entrambi i piloti. Le gerarchie sono ben chiare ad entrambi i piloti. Verstappen non ci ha messo nulla a prenderlo e passarlo. Io mi sarei aspettato almeno in quel giro questa manovra da parte di Perez. E poi Perez doveva chiedere il pit subito perché sentiva che le sue gomme non c'erano più. Invece non gli ha fatto perdere neanche un secondo al suo compagno di squadra. Quindi seconda guida dichiarata anche quest'anno ma la mia era una falsa speranza non c'erano dubbi e soprattutto anche Perez questo lo sa ed è rassegnato. Poi arrivano moltissimi messaggi sulle ali flessibili. Qui faccio vedere un'altra cosa. Allora parliamo prima di questo e poi delle ali flessibili. Quello successo all'Alfa Tauri di Sunoda è l'ennesimo problema quest'anno alle ali posteriori al DRS alla stabilità e alla resistenza di queste componenti. Qui l'ala si è spezzata in due. Allora perché l'anno scorso ne vedevamo poche di queste problematiche e quest'anno un po' di più per via della ricerca del grammo in ogni parte della monoposto. L'anno scorso non c'erano i problemi di peso di quest'anno quest'anno ci sono e quindi si vedono anche di queste situazioni. Quando poi arrivano dei messaggi che dicono ma hai visto l'ala Mercedes quanto flette l'ala Red Bull quanto flette sono fuori? No loro sono bravi evidentemente vanno a sfruttare la flessione concessa dalla federazione fino all'ultimo millesimo di millimetro. invece chi questa flessione non ce l'ha evidentemente non sfrutta questa piega del regolamento. Come viene fatto? Prendiamo questo telefono ok? Facciamo finta che sia un'ala come si stabilisce se quest'ala sia in regola oppure no? Si mette un peso se quest'ala flette fino a un tot è dentro altrimenti è fuori evidentemente le ali Mercedes le ali Red Bull sono dentro gli altri si devono adeguare e far flettere le ali fino a quanto concesso anche qui c'è una punta di nota polemica verso chi non ci riesce andiamo ancora avanti problemi di Port Poising Hamilton l'abbiamo visto ha fatto una buona gara però l'abbiamo visto veramente stremato a fine gara consideriamo che loro sono il team che hanno più problemi di tutti e Hamilton è prossimo ai 40 quindi questo significa che a livello di schiena mi ha viste tante ed è normale abbia più problemi ieri in pista mi è stato chiesto ma secondo te Russell è davvero così tanto più bravo di Hamilton io ho risposto in questo modo secondo me Russell è bravo però quando un pilota che ha vinto più di 100 gare 7 mondiali si trova a guidare un carretto del genere così l'ha definito Toto Wolf allora è probabile che un po' la motivazione scende che tu non dai tutto te stesso e il tuo compagno invece sì perché ha molta più fame di te quindi a mio avviso per vedere chi dei due vale di più in questa fase della loro carriera uno è arrivato l'altro ha tutto da vincere dobbiamo aspettare una vettura vincente altrimenti non si capirà mai la reale scala dei valori in ogni caso anche se hanno guidato in Mercedes finora i piloti la vettura più performante o una delle due più performanti e parlo fino al 2021 un pilota che ha vinto così tante gare non ha quanto meno a se stesso da dimostrare chissà che cosa quindi per me il suo atteggiamento e ve lo dico da pilota è normale poi ancora vorrei fare i complimenti per la gara di oggi a due piloti uno è Vettel che sta ritrovando se stesso avete visto che confidenza in quel testacoda quando con l'ala posteriore ha sfiorato il muro si è rimesso subito in corsa ha perso solamente sei secondi è stato veramente bravo nonostante l'errore della staccata nel sorpasso contro Ocon poi Gasly Gasly ha fatto una gara tipica di uno che cerca un sedile importante però è stato veramente bravo questo weekend ha surclassato il proprio compagno di squadra che si sta rivelando molto molto veloce e a me fa piacere vedere un Gasly così competitivo io mi auguro che vada via dall'Alfa Tauri ok con la Formula 1 ho detto tutto oggi però c'è stata una vittoria di un pilota italiano in classe GT ovvero Gian Maria Bruni che ha vinto la 24 ore di Le Mans GT Pro quindi dedicata ai professionisti lui è pilota ufficiale Porsche questo è l'ultimo anno di impegno ufficiale da parte della Porsche in questa categoria alla 24 ore di Le Mans ebbene non si sa se il prossimo anno Jimmy Bruni che è uno dei piloti più vincenti della storia uno dei piloti italiani più vincenti nella storia dell'Enurance GT ebbene non si sa se lui potrà avere un sedile ancora io mi auguro che vada in un team come la Ferrari perché se lo merita perché è già stato pilota Ferrari ha vinto come pilota Ferrari e soprattutto è un pilota che oggi ha dimostrato che ha ancora tanto da dire ripeto ha vinto in classe GT la 24 ore di Le Mans in classe nella classe regina scusatemi il piccolo lapsus invece ha vinto la Toyota che è alla quinta vittoria nella classicissima ha vinto con Buemi che è al quarto successo la 24 ore con Brandon Hartley ecco lo sapevo mi sono allenato a dirlo bene tante volte prima del video ora qui guardate un po' Brandon Hartley ma vabbè con Brandon ha vinto per la terza volta e poi prima vittoria di Rio Irakawa questo che è giapponese l'ho detto bene Hartley Brandon Hartley ci sono riuscito ragazzi la 24 ore Le Mans è sempre una gara avvincente però il prossimo anno ci sarà anche la Ferrari che correrà nella categoria regina ci sarà anche la BMW quindi e anche altre case quindi il prossimo anno sarà veramente fantastico vedere questa gara tra l'altro voglio fare i complimenti guardate che lo dico bene alla Glickenhaus c'è una un costruttore una casa privata rispetto a questi colossi vedi Alpine che poi ha avuto problemi vedi Toyota vedi Ferrari il prossimo anno BMW Porsche eccetera eccetera che è arrivata a podio è arrivata a terza quindi chapeau a un costruttore privato a un costruttore così piccolo che riesce a portare una vettura sul podio assoluto della gara più importante di durata che esiste al mondo bene ragazzi anche per questa puntata è tutto se vi è piaciuto il video condividetelo iscrivetevi al canale lasciate un like e un messaggio sono contento se siete arrivati fin qui nel video perché vuol dire che siete ripeto affezionati al canale un po' anche a me mi fa piacere mi fanno tanto piacere i vostri messaggi di stima domani cercheremo di riprendere le forze proporvi un video interessante ce la metterò tutta per oggi porca miseria per l'ennesima volta durante questa stagione dove ci hanno illuso ci hanno illuso e c'è poco da dire mi sento un po' spompato un po' demotivato speriamo che le prossime gare possano andare un po' meglio ma a questo punto ci credo ci credo un po' meno rispetto a prima e poi volevo sottolineare una cosa dal punto di vista della prestazione ho fatto bene a crederci io ero convintissimo che con la l'ala diciamo scarichissima perché ripeto come detto ieri nel video la Ferrari non ha solo due configurazioni ala carica e ala scarica questa è la quarta ala posteriore portata quest'anno in pista dalla Ferrari poi le analizzeremo magari domani facendovi vedere dove sono diverse ce n'è due ad alto e medio carico una molto carica e una scarichissima che è questa scusate no due ad alto e medio carico una a medio basso carico e una a basso carico che è quella con cui la Ferrari ha corso oggi e se l'avesse usata a Miami avrebbe vinto la gara ebbene loro erano davvero competitivi davvero in corsa per la vittoria potevano riuscirci però oggi si è messa di mezzo l'affidabilità sono molto molto deluso e spero che il gruppo si rafforzi non solo attraverso l'esperienza ma attraverso l'innesto di qualche personaggio chiave che è evidente ragazzi oggi a Maranello manca da Nicola Castiglione dalla Selezione Nazionale dei Piloti è tutto anche per il video di oggi vi lascio con la sigla ciao un bacio e guardiamo le cose belle della vita chiudiamo così perché non c'è solo la Formula 1 non c'è solo la Ferrari quindi concentriamoci anche sugli aspetti belli che la vita oggi ci offre ciao ciao